Manca ormai poco all'inizio di Temptation Island, edizione 2017, e come al solito cominciano a circolare i primi rumors del possibile cast. È facile immaginare che, come ogni anno, alcune delle coppie protagoniste verranno prelevate direttamente da uomini e donne e da mesi giravoce che i da Mellis Andrea Damante e Giulia De Lellis non si lasceranno sfuggire l'occasione. Nulla è ancora certo, ma sappiamo in compenso chi non andrà al reality della tentazione di Canale 5. Sono Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti, che hanno negato la possibilità di partecipare in un'intervista radio Free Station. Emanuele Mauti ha smentito di aver ricevuto offerte in tal senso, spiegando inoltre di essere contro le modalità della trasmissione. Premesso che non c'è stato proposto, non ne sentiamo l'esigenza. Non ci piacciono le dinamiche del programma. Gli fa ecola Lorenzini, che ritiene come il loro amore, ancora agli inizi, potrebbe essere inutilmente danneggiato dalla partecipazione allo show. Non mi piacerebbe vivere questi primi momenti della nostra storia con la paura di quello che potrebbe accadere. La coppia appare solidissima e ha da poco deciso di lasciare a Roma per andare a convivere a Latina. Nei loro progetti futuri, c'è l'idea di avere dei figli, come spiegato già tempo fa, quando lui a poche settimane dalla scelta definiva Sonia la donna della sua vita. Un concetto ribadito nell'intervista radiofonica. Io ho 30 anni, Sonia 28, siamo piuttosto grandi rispetto alle altre coppie di uomini e donne. Pensiamo a creare una famiglia. Chi se ne frega.